Le relazioni tra Giappone e Italia vantano una storia ormai secolare. Nel XVI secolo l'ambasciata in Europa dei giovani dell'era Tensho e nel XVI secolo l'ambasciata in Europa nell'era Keicho guidata da Tsunenaga Hasekura visitarono Roma. In tale occasione Hasekura venne in visita anche qui al palazzo del Quirinale e ho appreso che presso il salone dei corazzieri c'è un affresco che ritrae tra gli altri Hasekura. In seguito nel periodo in cui entrambi i paesi si cercavano di diventare uno Stato moderno, il 25 agosto 1866 è avvenuta la firma del Trattato di Amicizia e di Commercio. Giappone e Italia hanno avviato relazioni diplomatiche bilaterali intensificando ulteriormente le loro relazioni di amicizia.